buongiorno a tutti e ben ritrovati su dark vanities nel nome dell'horror del fantasy e del gotico oggi sono qui perché voglio recensire lo spettro nono libro della saga di harry hall di joe yo o joe nesbo quell'autore che abbiamo conosciuto io io l'ho conosciuto col pettirosso potete trovare sul canale la recensione del pettirosso di nemesi di la stella del diavolo la ragazza senza volto l'uomo di neve e lo spettro scusatemi leopardo questa è la nona e lo spettro poi forse forse un giorno leggerò scarafaggi e il pipistrello rispettivamente il secondo è il primo romanzo della saga e forse anche polizia che ha il decimo non lo so lo spettro mi è piaciuto un casino faccio una parte non spoiler e poi la parte spoiler ok allora ragazzi per non non spoiler posso dirvi che è un romanzo davvero cupo e brutale come l'ho definito io nesbo è un romanzo il cui inizio davvero è incasinato perché non capisci chi è chi cosa sono quali sono le fazioni chi è il colpevole chi è il cattivo chi è il buono è tutto molto 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 rare fatto questo tipo di irrazione mi è piaciuto un casino e vorrei ritrovarlo sempre sempre più spesso sarebbe era proprio bello perché ti disorienta un botto e devi leggere più avanti per capire un po' di di chi cacchio si sta parlando è proprio una cosa splendida che ho apprezzato un botto vediamo che ore sono ok no non ho ancora tanto tempo vediamo allora senza fare spoiler posso dirvi che oleg vabbè è iniziato in questo romanzo e il bello è che il bello è che 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 io nesbo deve combattere contro i signori della droga il crimine quindi la morte dietro l'angolo l'assassinio la soffiata l'informatore non puoi fidarti di nessuno è una cosa spettacolare ragazzi vorrei che vorrei che fosse sempre applicato qualcosa del genere ai romanzi perché c'è tanto da da imparare sì onestamente sì c'è tanto 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 da imparare io onestamente ne sono stato deliziato mi ha colto un sacco c'è solo stato fa la seconda parte un po' noiosa del libro ma il colpo di scena ripaga completamente e se non avessi saputo che c'era un seguito a questo romanzo onestamente il finale mi avrebbe distrutto però è sconvolgente ragazzi vi colpisce un botto in pieno vi fa sussultare questo romanzo me lo sono goduto inizio settembre credo di aver impiegato una o due settimane per leggerlo tutto intero e onestamente mi sono preso il tempo per godermelo perché ragazzi è proprio cattivo come romanzo è proprio vi fa male dice cose scrive io onesbo qui cose molto cattive sulla società norvegese e sul mondo della droga su tutto il resto che io onestamente non mi aspettavo non in questo modo onestamente mi ha sorpreso davvero tanto cioè io ne sono rimasto colpito davvero tanto cioè mi ha fatto male questo romanzo ragazzi è stata un'esperienza davvero traumatizzante e ora che ne dite se facciamo un po' di spoiler sì allora innanzitutto la parte di dubai allora c'è questa elizabeth questo ci sono alcuni personaggi serghei che è questo killer che deve uccidere io onesbo eh scusi ciao henry hall poi c'è dubai che è questo signore della droga sconosciuto poi c'è kato che è l'uomo un po' dell'albergo vecchio sospetto dove alloggia henry hall poi c'è non c'è qui la la classica relazione con una donna un po' simbolo delle sue di henry hall ogni 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 romanzo più o meno c'era sempre qualcosa con una donna qui no a meno che rachel non sia considerata come tale e non lo è perché c'era già qui è un po' recuperare i pezzi del passato rimediare ai torti rimediare alle proprie cattive abitudini di alcolista di non essere stato un padre per oleg come lui si aspettava e quindi è una lotta esteriore contro oslo contro la società contro la droga ma anche contro il nostro henry hall cioè una lotta anteriore in si stesso deve rimediare ai torti che ha fatto alle persone non torti in senso di denaro ma proprio in modo in cui ha trattato le persone a lui care oleg e rachel ovviamente cos'altro? beh mi ha colpito un botto tutto il romanzo io non mi aspettavo nulla di tutto ciò cioè mi aspettavo uno scontro una ricerca e in parte è così però c'è tutta quella parte rinfangata della società di oslo succube della droga e poi noi che consideriamo che il norvegia è uno dei poesi più puliti più felici del mondo insomma non ho messo bene dove si sta al sicuro invece no è tutta apparenza e questa mettere in dubbio la società norvegese mi è piaciuto un sacco poi cos'altro? ah sì poi la parte di la parte dove la parte dove il nostro henry hall deve fare i conti con oleg per farlo scaggionare per poi arrivare alla conclusione che oleg stesso è stato ha ucciso coso ha ucciso gusto è qualcosa di traumatico non te lo aspetti perché c'è oleg oleg dai non potrebbe averlo fatto invece l'ha fatto ragazzi e per cosa? per la droga e quindi ragazzi è una cosa assurda cioè mia ti distrugge cioè perché alla fine è la droga che vince su tutto sull'amicizia sulla realtà padre figlio su tutto quanto quando oleg spara oleg a henry mamma mia cioè boh non ho parole ho rachel che è insicura con questo avvocato simonsen poi c'è tutta la parte narrativa di gusto che è con dubai e poi con il com'è che si chiamava? croz no? troz ecco quel poliziotto poi c'era schultz quella parte lì dell'informatore schultz il pilota che poi però viene ucciso in piccato cioè ci sono tutti quegli uomini andrei serghei e gli altri uomini di dubai questi russi e così via poi c'è il rapporto conflittuale tra poi c'è di nuovo martina quella che conoscevamo da martina è quella dei gli uomini la ragazza senza volto quel romanzo il sesto no martina la conoscevamo da lì che soccorre henry poi è sposata quindi insomma ritroviamo alcune vecchie conoscenze bellman arthur bellman è uno stronzo arturo come cazzo si chiamava bellman comunque michael bellman ecco bet loan che la ritroviamo ritroviamo alcuni altri personaggi boh ragazzi tanti personaggi che abbiamo conosciuto nel corso di questi romanzi li ritroviamo qui in questa battaglia solo per scoprire che alla fine dubai è cato e che ha sempre vissuto accanto a henry hall in quella l'ho tenuto d'occhio nell'hotel quindi che era quel vecchietto simpatico alla fine era proprio dubai e che alla fine era il padre di gusto e che alla fine gusto non è stato ucciso né da elisabeth né da michael bellman né da dubai né da sergei è stato proprio ucciso da oleg ragazzi e questo mi è proprio neanche da stein dal fratello poi c'è quella parte di irene tenuta prigioniera da da quell'altro uomo quel dottore che alla fine chiamavano ipsen o imsen così in realtà non si chiamava così poi c'è insomma che poi si impicca anche lui per il rimorso per il suicidio insomma è un romanzo molto brutale ragazzi poi c'è tutta faccina dalla dipendenza dall'alcol dalla droga la società le implicazioni nella pulizia le ripartizione con la kripos insomma guna hagen che non ha più tantissimo potere per decidere o non decidere di fare cose lui che c'era sempre nel sesto romanzo nel quinto nel quarto soprattutto nel settimo boh mamma mia ragazzi è un romanzo che non so come descrivere leggetelo vi lascio in descrizione il link e anche nel primo commento al link amazon così leggete la quarta di copertina e poi se vi piace acquistatelo perché onestamente merita e forse è il romanzo più bello di tutta la saga spesso in questi romanzi non tutto il romanzo funzionava benissimo ma c'è la parte di alcuni personaggi o alcune scene questo invece o almeno nel mio caso anche se poi il petti rosso era un po' un'eccezione ma d'altronde era il primo che avevo letto di questa saga quindi ovviamente mi aveva colpito meglio questo invece cazzo questo mi ha proprio preso dall'inizio all'ultima riga forse c'è stata una parte un pochino noiosa con qualche dove i pezzi cominciarono a tornare al loro posto e quindi capivi chi è chi chi non è chi e credi di avere la risposta e dici ah vabbè è stato ucciso da Dubai ah da Sergei gusto no oppure ah no l'ha ucciso Stein il fratello per ripicca per vendetta lui che si scopava la madre nottiva mamma mia gusto che storia mamma mia che aveva rubato e faceva cose il ladro no allora dice no è stato trozzo o Michael Bellman per coprire il fatto che lo conoscevano no ragazzi è stato Oleg cazzo è stato Oleg che figa e con questo vi saluto perché leggetelo cioè vi 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 prende vi sorprende come una catapulta questo romanzo io non so cosa aggiungere perciò ciao a tutti nel nome dell'horror del fantasy e del gotico ciao un altro romanzo che vi consiglio mio invece scritto da me è la bambola l'usignolo non è un crime poliziesco non è un thriller è una sorta di dark romance è una cosa diversa però anche lì c'è sempre ciò che credi di sapere che non sai oppure ciò che sai ma non vuoi ammettere di sapere perché a volte la verità ti fa davvero male un botto ragazzi vi spero di avervi coinvolti in questa escursus oscuro nel tunnel Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Grazie.